Ben trovati, Mario Melchonna, segretario generale della Cesare di Piniasannio, ospite di questa puntata di politica e politiche. Io partirei, segretario, proprio da il Piniasannio. Oggi stiamo assistendo ad una progressiva unificazione istituzionale dei due territori, delle due province. La Cisela ha avuto questa intuizione ben tre anni fa, nel 2013, se ricordo bene, marzo 2013 fu celebrato il primo congresso unitario delle due province. La domanda è, per partire proprio da qui, alla luce di questi tre anni, quanto è stata felice questa intuizione? Cioè era necessario, lei ritiene che sia stato necessario creare un organismo sindacale che unisse le due province? Sì, credo che è stata un'esperienza molto positiva. A distanza di tre anni possiamo dire che i risultati che abbiamo ottenuto nell'unificare la Cisela di Avellino con quella di Benevento sono stati veramente tantissimi. Primo fra tutti, e non da sottovalutare, è la questione economica. Con i tagli continui ai sindacati, ai patronati, ai CAF, con la carenza di risorse che ormai sono non solo nel mondo dell'imprenditoriale, del mondo del lavoro, ma ormai la carenza di risorse un po' in tutti i settori, insomma mettere insieme le due realtà ha significato anche un risparmio. Basti pensare che noi avevamo 19 segretari di categoria e segretario generale della Cisela di Benevento, altrettanti 19 ad Avellino di categorie con segretario generale di Avellino, messi insieme ne sono rimasti soltanto 19, quindi metà del gruppo dirigente assaltato e quindi abbiamo avuto un grosso risparmio economico. Poi bisogna aggiungere quella che quando mi riguarda è quella più entusiasmante e i risultati che abbiamo avuto mettendo insieme due aree interne, l'Irpina e il Sannio per molti aspetti simili e quindi mettere insieme queste due realtà, condividere le questioni, le problematiche, molte problematiche sono simili, la sanità, la forestazione, le infrastrutture, insomma sono questioni che ormai ci accomunano, è diventato anche un potere contrattuale nei confronti della Regione Campania perché mettere insieme le aree interne come sindacato ha significato avere come dire una voce importante ai tavoli di trattativa ed è servito anche a far ragionare la politica perché se oggi... Sì, giusto per ordine no? È molto interessante quello che lei ha detto, ma qual è il grado di omogeneità effettiva delle due province? Lei diceva che sono due province delle aree interne che hanno tante cose in comune, quanto è alto questo grado di omogeneità? Ma è altissimo perché entrambi siamo territori che valorizzano e vivono di prodotti tipici locali, per gran parte della nostra economia, eccellenze locali, dico prima le cose positive che abbiamo... Certo, poi vediamo le criticità... Abbiamo un territorio a vocazione, fortemente a vocazione turistica, il sanno ancora più dell'Irpinia, abbiamo, come dire, entrambi i territori sono territori montani, quindi valorizzazione dell'ambiente, del territorio, anche delle bellezze naturali e ambientali. Poi ci sono le cose negative che purtroppo ci accomunano, siamo nell'entroterra della Campania e quindi per qualche verso siamo stati penalizzati negli anni dalla politica soprattutto regionale nazionale perché, come lei ben sa, direttore, i soldi che arrivavano sia dalla comunità europea che i soldi di carattere interno, diciamo nazionale, del fondo nazionale andavano spesi soprattutto nell'area metropolitana di Napoli, sulle zone costiere, quindi in qualche modo hanno negli anni fatto in modo che queste aree interne rimanessero fuori dalle strategie di programma e di sviluppo e quindi, come dire, ci accomunano le cose positive e le cose negative. Io credo che, nella mia esperienza che ho fatto, che è superata la fase iniziale della diffidenza, che è normale e umana che ci sia la diffidenza, ma poi questa cosa è durata qualche settimana, al massimo un mese. Subito dopo ci siamo resi conto che stare insieme significa essere più forti, avere più voce in capitolo e tentare di risolvere qualche problema in più, che ripeto, spesso sono i problemi simili dei due territori. Apriamo una piccola parentesi così, se vuole una digressione un po' leggera di carattere sportivo, le diceva al di là, a parte pure i conflitti che ci sono storicamente tra Ipini e Sannio, abbiamo due squadre in Serie B, l'Avellino che è rimasto in Serie B e il Benevento che è salito in Serie B, peraltro per la prima volta, dopo che se ricordo bene nel campionato 45-46, non vorrei sbagliarmi, fu promosso ma poi non c'erano i soldi per fare il campionato, questa è la prima volta che il Benevento veniva in Serie B. Dico, questo derby, questo derby lei come se l'immagina, riusciamo a stabilire tra Ipini e Sannio anche una competizione, ma in positivo, per i processi di sviluppo? Quali sono le difficoltà che lei intravede? Anche alla luce di questo derby sportivo calcistico al quale stiamo per assistere nel prossimo campionato. Io mi auguro che il derby sportivo non diventi una lotta, una battaglia, una guerra tra poveri, perché poi quello che succede nello sport spesso succede anche nella realtà delle comunità. Mi auguro di no, spero proprio di no. Poi qualche anno fa nei confronti del sindaco di Avellino Paolo Foti e del sindaco di Benevento Fausto Pepe a farli iniziare a ragionare sulle questioni, a cominciare a vedere le vicende da risolvere sui territori insieme e non fare le battaglie e le guerre isolate perché non serve proprio a niente. Sono contento perché finalmente si inizia a ragionare di area vasta, ci sono stati dei confronti tra i due sindaci dei comuni capoluogo, allargata da altri comuni, questo è un primo segnale positivo, però non posso negare che c'è ancora tanto campanilismo, c'è tanta difesa del proprio territorio, del proprio comune, del proprio orticello e questo è sbagliato. Come facciamo a tentare di diluire fino ad annullare questi campanilismi? Io credo che noi come sindacato stiamo dando un buon esempio. Io quando partecipo a delle iniziative di carattere politico, insomma che si parla di sviluppo, di lavoro, di entrambi schieramenti politici, di tutti gli schieramenti politici, insomma io porto l'esempio di questa Cisle che siamo riusciti a fare, a mettere insieme, non pensavamo tutti allo stesso modo Cisle Avellino e Benevento, ognuno aveva le proprie convinzioni, il proprio modo di fare sindacato, però noi siamo riusciti a mettere da parte sia le ambizioni personali che le cose consolidate nel tempo. Per poter guardare avanti al futuro e mettersi insieme bisogna fare qualche sacrificio, il sindacato ci è riuscito, la politica fa fatica, ma perché nella politica ci sono interessi diversi, dietro il politico si nasconde l'interesse, non della comunità, spesso del singolo, ecco perché noi ancora oggi registriamo sotterfuggi, furbizie che vengono fatti dai politici irpini, dai politici sanniti, insomma... Il sindacato è proprio immune da questa patologia dell'individualismo sfrenato, dell'interesse? No, assolutamente no, però sono interessi diversi, mentre magari noi abbiamo l'interesse di essere più rappresentativi in un territorio, invece nella politica c'è l'interesse che prevale spesso di carattere economico, di interessi personali. Parliamo di sviluppo, segretario, lei diceva prima, mi ha molto colpito una sua espressione, diceva che il pini e il sannio hanno in comune anche una forte vocazione turistica, probabilmente si riferiva soprattutto all'agriturismo e quindi a questo tipo di turismo, ecco ma la domanda lei, chi pensa alla Campania, il turista americano, inglese, tedesco, argentino, brasiliano, quello che vuole, che pensa alla Campania, pensa alla costiera amalfitana, è il nostro gioiello turistico, no? Come si può immaginare che mettendosi un po' nella testa del potenziale turista, che viene anche da Milano magari, che si debba non andare in costiera amalfitana, ma magari andare in provincia di Benevento, dove ci sono dei luoghi certamente eccellenti, ecco, che cosa manca per fare sinergia tra i territori del nostro mare e quelli interni? Io credo che sia intanto una volontà politica, in questi anni chi ci ha rappresentato ai vari livelli istituzionali e politici, non ha avuto la capacità per quanto mi riguarda di valorizzare al punto giusto le nostre eccellenze, le nostre, come dire, positività che abbiamo sul territorio e tra le quali anche il turismo. E poi anche una questione di investimenti, perché se il turista deve venire da noi e non ha la strada per raggiungere il luogo turista, perché purtroppo la situazione è quella che è i collegamenti infrastrutturali, viari, ferroviari, non ne parliamo proprio, ormai non esiste più la ferrovia in provincia di Avellino, quindi i collegamenti sono scarsi. Poi ci vogliono le strutture di accoglienza, perché se un turista viene e vuole, deve trovare la struttura, gli alberghi, insomma, si può immaginare che il turista passa, la gita dura una giornata e poi se ne va, perché non resta niente sul territorio. Abbiamo una carenza di ricettività. Quindi c'è la zona di infrastrutture, servono le infrastrutture, e poi serve un'adeguata, come dire, azione pubblicitaria di quello che abbiamo. Spesso noi non sappiamo vendere il nostro prodotto, prodotto in dentro il nostro, come dire, il nostro territorio, l'eccellenza del nostro territorio, noi non siamo in grado di venderlo, non siamo in grado di renderlo attrattivo il nostro territorio, cose che hanno saputo fare, per esempio, sulle aree costiere, ma lì è più semplice, tra l'altro, in mare c'è, non è che bisogna inventarselo. Noi invece dobbiamo avere la capacità di vendere il nostro territorio per quello che è veramente, per la bellezza naturale, il paesaggio. Poi quando sento parlare di nuovo della rinascita dell'Avellino Rocchetta, della ferrovia, ma sono cose che ormai se ne parla da troppo tempo. Quello poteva essere un motivo per riattivare quella ferrovia e veramente per fare in modo che il turismo potesse diventare qualcosa di utile per il territorio. Però sento solo gli annunci, direttore, di concreto, purtroppo non c'è niente. Vediamo un po' alla crisi del nostro sistema produttivo. Credo che l'Irpini, a tutto sommato, in questo, sia molto simile al Sannio. Abbiamo una industria manifatturiera in crisi, almeno generalmente in crisi. L'ultimo caso, quello dell'area industriale di Nusco, la OCM, 98 lavoratori licenziati praticamente in tronco e proprio questa mattina De Mita mi ha molto sorpreso, devo dire la verità. De Mita ha avuto l'applauso dei lavoratori all'uscita dalla provincia e soprattutto ha detto una cosa che mi ha fatto molto riflettere. Non abbiamo un interlocutore. Nella vertenza OCM il vero dramma è che non c'è un interlocutore. La domanda è come è possibile che chi viene in questa provincia ad investire poi se ne può andare dopo aver preso soldi pubblici e manca addirittura l'interlocutore. La OCM è uno dei tanti esempi di aziende che abbiamo messo in questa situazione, dove spesso la proprietà delega un responsabile di stabilimento che non ha capacità decisionale, non ha potere decisionale. Quindi già lì capisci quando ti presenti a un tavolo di trattativa l'interlocutore se ha autonomia, capacità oppure è stato mandato giusto per fare la presenza. Questo è il vero dramma perché spesso le aziende che si trovano in questa difficoltà sono imprenditori che vengono dal nord. Sono imprenditori che hanno approfittato dell'occasione, delle agevolazioni che in questo territorio, in questa regione per anni sono stati incendivi a chi voleva fare impresa ma poi si è capito alla fine che hanno fatto impresa soltanto per recuperare il contributo dallo Stato. Nei fatti non è rimasto niente sul territorio. Una serie di aziende che hanno chiuso una dopo l'altra, sono rimasti capannoni voti, poi rifittati, ma in sostanza non si è mai creato lo sviluppo vero e quell'occupazione che serviva al territorio. Questo purtroppo glielo consentono le leggi in Italia. La parliamo degli imprenditori irpini, segretario, da 1 a 10 che capacità abbiamo qui in questa terra, che capacità imprenditoriale, naturalmente dal suo punto di vista, degli imprenditori nostri, quelli indigeni. Ci sono imprenditori che sono delle eccellenze sul territorio, bisogna dirlo, ma sono pochissimi gli imprenditori irpini che hanno saputo in qualche modo valorizzare bene il prodotto delle proprie aziende, che hanno saputo trovare i canali, gli sbocchi all'estero per commercializzare poi il prodotto, ma sono veramente pochi. Gran parte degli imprenditori sono in attesa del contributo statale per fare imprese, sono in attesa del solito incentivo dello Stato, per tenere aperta l'azienda, in attesa non si sa di che cosa. Purtroppo bisogna puntare su questo. Creare una classe imprenditoriale vera non è semplice, bisogna trovare intanto le intelligenze, le persone che lo vogliono fare, che sono capaci e che si mettono in gioco. Negli anni noi abbiamo assistito a una classe imprenditoriale, non solo in Irpini, ma in Campania, ma in tutta Italia direi, di imprenditori assistiti. I imprenditori che facevano imprenditori senza mettere un centesimo dalla propria tasca. Arrivavano i contributi dallo Stato, si apriva l'azienda, si assumevano le persone, poi si vede alla fine che hanno fatto queste aziende. Abbiamo avuto soltanto, ripeto, sfruttamento di fondi pubblici e poi le persone stanno in mezzo alla strada. Io credo che c'è la necessità di investire sull'imprenditore quello che vuole fare veramente questo per mestiere, che si sporca le mani, che ci mette i soldi di propria tasca, che non si aspetta l'incendivo e che in qualche modo si mette in gioco. Però a questo bisogna aggiungere poi che c'è la necessità di abbattere la burocrazia. Io conosco tantissimi imprenditori che vorrebbero fare, ma la burocrazia di questo Paese, la tassazione altissima, mette in condizione gli imprenditori di chiudere subito dopo e andarsene all'estero. Ecco, questo è il paradosso. C'è chi vuole fare e non può fare. Chi invece tira a campare, in qualche modo lo Stato lo tutela così. Cosa ci dice invece, sull'altro versante, quello dei lavoratori, sul grado di produttività dei nostri lavoratori. Naturalmente lei deve difendere la categoria e ci mancherebbe altro. Io dico sempre che magari il sindacato si limitasse a fare il suo mestiere, cioè a difendere i diritti dei lavoratori. Poi ogni tanto sbandate un po', andate fuori binario, interessate anche voi dei massimi sistemi, ma è legittimo anche quello. Sul grado di produttività dei nostri lavoratori, come siamo messi? Io credo che oggi noi abbiamo una classe di lavoratori molto professionalizzata e qualificata rispetto a qualche anno fa. Voglio ricordare a me stesso che quando è arrivata l'industria in Irpinia i nostri lavoratori erano lavoratori del settore agricolo, della terra che sono stati portati nelle fabbriche. Noi abbiamo avuto un'evoluzione, una crescita veramente molto positiva. I nostri lavoratori non hanno nulla da invidiare i lavoratori dei grandi nuclei industriali del resto del paese. La dimostrazione che, faccio un esempio, i lavoratori della FCA di Prato-la-Serra sono dei lavoratori più qualificati e più professionalizzati dell'intero sud Italia. Ci sono eccellenze veramente, ma perché abbiamo contato molto sulla formazione? Questo bisogna riconoscerlo. La formazione, oltre all'esperienza pratica nell'azienda, la formazione è stata fondamentale perché oggi le competizioni le vinci col mercato se tu hai il prodotto di qualità. Il prodotto di qualità lo fai non soltanto se hai i macchinari efficienti in azienda, ma lo fai se hai persone qualificate che sanno quello che devono fare. Io credo che oggi veramente i lavoratori irpini sono un'eccellenza. Lei ha nominato la FCA, cioè la Fiat. Chiamiamola così, facciamo prima, no? La Fiat. La grande Fiat che ha avuto la capacità di capire ad un certo momento che vento tirava e ha fatto quello che ha fatto, l'acquisto di Chrysler, investimenti internazionali in questo settore, eccetera. Ora, io vorrei giocare un attimino con i cognomi, no? Non le sembri una banalità. Lei si chiama Melchionna, che ha così, una vaga assonanza con Marchionne, che è il grande, è il genio, possiamo dirlo, penso che lei concorda, della Fiat, no? Non siamo parenti, direttore. Non so che non siete parenti, infatti i cognomi sono diversi. Anche con il mio cognome ogni tanto si scherza, no? Si sono parentele che non esistono. Il problema è, così glielo chiedi in maniera anche un po' semiserie, divertente, lei si è mai sentito nei panni di Marchionne, cioè più industriale che sindacalista, nel senso ha mai provato a mettersi nei panni di un industriale per tentare di capire meglio il punto di vista dell'industria della quale siete spesso, quasi sempre o per definizione, controparte, che è una brutta parola oggi. La risposta è già data. Per poter far bene il sindacalista devi capire dall'altra parte quali sono le questioni e le problematiche dell'imprenditore, perché se continui a fare il sindacalista dicendo di no a tutto, l'unico risultato che puoi avere è che l'azienda d'aiuto e i lavoratori sono licenziati. Quindi bisogna capire quali sono le questioni vere, le problematiche e insieme all'azienda risolvere le problematiche. Non essere strumentalizzato a servizio dell'azienda, quella è un'altra cosa, ma capire la problematica. Se c'è un problema e l'imprenditore con maniera seria e onesta espone il problema e chiede aiuto alle parti sociali, al sindacato, per risolvere il problema nell'interesse dell'azienda e dei lavoratori, un sindacato serio e corretto non può sottrarsi a questo tipo di confronto. Noi abbiamo fatto sempre questo come Cisola, ci confrontiamo sulle questioni serie, vere, facciamo la nostra parte per risolvere i problemi, ma nell'interesse del lavoratore, che poi ne trae un beneficio l'azienda, non è che a noi voglio dirci di spiare, perché il beneficio è trasparente, ma se esiste l'azienda esiste il lavoratore, se chiude l'azienda non ci sarà più il lavoratore. Spesso altre organizzazioni sindacali, una a caso, la FIOM, dice di no a tutto, ma dire di no a tutto significa la fine, noi non possiamo, la cosa più semplice è dire di no, la cosa più difficile è dire di sì e motivare pure per chi si dice di sì e non a caso oggi la Cisola, lasciatemelo dire, voglio parlare nel mio piccolo, la Cisola Irpini Asagno, direttore, è l'organizzazione più rappresentativa, CGL, UIL e UGL messi insieme non arrivano alla nostra rappresentanza che abbiamo sul territorio, non sarà un caso, non credo perché siamo più belli e simpatici, ma credo perché viene premiato il lavoro che facciamo. Però ha fatto un danno a me, un danno soltanto così per motivi di tempi, dovrò invitare qualcuno della FIOM e della UIL per pareggiare il conto. Possiamo anche fare un dibattito a tre, non c'è problema. No, 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 quelli là non funzionano, i talk show hanno stancato, sa perché infatti sono molto molto in crisi? Perché c'è troppa gente che parla contemporaneamente e non si capisce niente, io preferisco il dialogo, l'intervista a due perché così si cerca di capire bene e far esprimere il pensiero degli altri. Inviteremo certamente FIOM e UIL. Senta, Melchionna, lei ha i capelli grigi che però fanno un torto alla sua età, perché Melchionna è giovane. Il problema, la domanda è questa. Io ricordo, io che i capelli non ne ho proprio, no? Ricordo che prima, un po' di anni fa, fino ad un po' di anni fa, c'era un conflitto molto molto forte tra sindacato e imprenditori. Poi questo conflitto, salvo alcune fasi, anche alcune sigle un po' oltransiste, questo conflitto si è andato, per così dire, addolcendo. Da che cosa è di peso, secondo lei? È di peso dalla carenza di lavoro, è di peso da un scenario del mondo del lavoro che è completamente cambiato negli ultimi dieci anni. È rimasto il conflitto col singolo imprenditore, con l'imprenditore che non paga i dipendenti, con l'imprenditore che non rispetta i contratti, lì l'avvertenza è sempre aperta, il contrasto è continuo. Il contrasto è venuto meno, un po' meno rispetto alle strategie, alla programmazione sullo sviluppo che bisogna fare su un territorio e lì per forza devi essere costruttivo. Il tavolo per lo sviluppo, il patto per le fine è l'esempio dove tutti insieme si può ragionare, sindacati, imprenditori, istituzioni, perché quando si tratta di creare le condizioni affinché ci siano investimenti su un territorio, non puoi litigare su queste cose. Ognuno ci mette il proprio pezzo, io nell'ambito delle discussioni dove si parla di programmazione, di sviluppo del territorio, io ci metto il pezzo che riguarda i lavoratori, io sto là a rappresentare i lavoratori, quindi faccio la mia parte nell'interesse dei lavoratori, chi rappresenta l'imprenditore? Fa la sua parte nell'interesse dell'imprenditore, ma tutti quegli interessi alla fine trovano una sintesi e si va presso, come dire, le istituzioni superiori, la Regione, il Ministero e la Commissione Europea per avere i finanziamenti su progetti che hanno una ricaduta dal punto di vista occupazionale sul territorio. Questo è il ragionamento, perché continuare a mantenersi divisi non serve a niente. L'ex ministro Barca, e concludo, ha elogiato l'Ispinia, quando l'abbiamo invitata a una delle riunioni per il patto per lo sviluppo, ha detto voi siete l'esempio di come la coesione sociale può dare risultati positivi. Le altre province hanno tentato di imitarci, perché effettivamente dove c'è la coesione i risultati arrivano, perché la condivisione degli obiettivi, dove c'è la guerra continua non si va da nessuna parte e si fa in modo che chi deve decidere prende, come dire, strumentalmente, ma lì si litiga sempre su quel territorio, è inutile mandare fondi, tanto non sono in grado neanche di spenderli. Invece sono privilegiati i territori dove c'è la coesione sociale. L'imprenditore fa questo stesso ragionamento, cioè in quella provincia, in quel territorio c'è molto conflitto tra sindacato, tra sindacato e politica, eccetera, lì non vado ad investire? Io credo di sì. Un imprenditore serio, noi parliamo degli imprenditori seri, non dei pirati, degli avventurieri, quella è un'altra cosa. L'imprenditore serio cerca la coesione sociale, cerca il confronto, cerca la soluzione alle questioni e non invece la continua lotta che non serve a nessuno. Come giudica il fatto, e ci sono tantissimi esempi accaduti in questa provincia purtroppo di comuni che per rilasciare una concessione ad un imprenditore fanno passare mesi fino a quando qualcuno si stanca, sbatte la porta e dice beh volete sapere una cosa, vado ad investire altrove. E questa è la vergogna di questo paese, soprattutto della Campania. La burocrazia sono tre i nemici del mondo del lavoro, la malavita organizzata, la burocrazia è la tassazione alta. Questi sono i tre nemici di chi vuole fare cose buone in questo paese. Perché non c'è bisogno di approfondire perché, mi soffermo solo sulla burocrazia. Se un imprenditore che vuole investire vuole ampliare la propria attività per avere un'autorizzazione passano anni, ma da quanto ha avuto l'idea l'imprenditore a investire, a quanto si concretizza, è tardi. L'imprenditore fa altre scelte nel frattempo. E questo è che bisogna intervenire. I governi questo devono fare, non inventarsi come indebolire la tutela del lavoratore, che non serve a niente. La dimostrazione che indebolendo la tutela del lavoratore, la jobs act, l'eliminazione dell'articolo 18, cosa ha prodotto? Niente. È solo ideologia, falsa ideologia. Servono questi interventi per garantire il lavoro. Il governatore De Luca, che può essere simpatico, non simpatico, eccetera, che può essere chiamato sceriffo, tutto quello che si vuole, eccetera. Però, a proposito della burocrazia, ha imposto, perché di questo si è trattato, ha imposto al Consiglio regionale tempi brevissimi per l'approvazione di una legge, quella sulla semplificazione, no? E in questa legge c'è appunto quello che lei dice. Risposte entro un tempo predeterminato. Senta, ma non ritiene che sarebbe possibile, no? Imporre o chiedere ai comuni di autoimporsi una regolamentazione di questo tipo? Cioè, ad esempio, abbiamo dei comuni che vanno al voto il 5 di giugno. Ecco, non potrebbe essere un tema della campagna elettorale, non sento nessuno però che dica una cosa del genere. Io, sindaco, mi impegno ad auto-regolamentare il mio comune perché se un imprenditore mi fa una richiesta, entro 30 giorni gli do una risposta e gli do un'autorizzazione? Sì, questo insomma è auspicabile, ma purtroppo nei nostri comuni registriamo che le campagne elettorali sono basate sull'accusa all'altro candidato, insomma la denigrazione, insomma le solite cose che purtroppo non fanno bene alle popolazioni. Poi bisogna dire, non vorrei sembrare eccessivamente, però insomma è una constatazione, bisogna anche vedere la qualità dei gruppi dirigenti, quindi anche di chi si è candidato ad amministrare un comune, oggi è difficile. Quando c'erano i soldi, i soldi arrivavano come si dice dalle nostre parti a palate e si era bravi a fare il sindaco, bisognava solo decidere, dove andare a spendere quei soldi. Oggi i soldi non ce ne sono, quindi un buon amministratore, un bravo amministratore, quei pochi fondi che arrivano li deve saper canalizzare nei settori dove sono utili alla comunità e oggi non abbiamo classi dirigenti tali che possano imbegnarsi su questo. Una cosa così semplice, come diceva lei, abbattere la burocrazia è una cosa che fa bene a tutti, fa bene all'imprenditore, fa bene al cittadino, al lavoratore, al pensionato, ma di questo non se ne parla, perché spesso chi è candidato a sindaco trova terreno fertile nel dire le cose che non ha fatto l'altro o accusare l'altro su cose che veramente non servono al popolo, anziché imbegnarsi su questioni seri che potrebbero dare qualche risultato. Abbiamo una manciata di minuti, quasi secondi. È un problema di buonsenso, no? Allora, quanto buonsenso secondo Melchionna c'è nel patto per la Campania? Il patto per la Campania siglato, firmato tra il governatore De Luca e Renzi dieci giorni fa. Ma io credo che più di buonsenso, direttore, ci sia buone intenzioni. Poi bisogna vedere se vengono... Ci sono anche i soldi, eh? Questa volta ci sono i soldi. Pochi. Dei dieci miliardi due qualcosa sono certi, gli altri sono da reperire. E in Italia noi sappiamo come funziona. Insomma, quando ci sono soldi da reperire non si sa mai... Questa per me è una novità. Il Presidente del Consiglio ha detto abbiamo soldi certi. Lei... Dieci miliardi per la Campania di cui due miliardi sono certi sul PSR e gli altri sono da recuperare sulle varie voci. Ma sicuramente li recupereranno, non voglio essere pessimista. Sulla qualità di questo progetto, di questo patto? Io quando ho letto le linee guida del patto per la Campania ho detto De Luca e Renzi hanno copiato le questioni fondamentali del patto per lo sviluppo per l'Irpinia. Ci sono tutte là dentro. Infrastrutture, territorio, turismo, ambiente, scuola, depurazioni, rete idriche, sembrano le cose del patto per l'Irpinia messe nel patto per la Campania. Io mi ritrovo perfettamente in quello. Mi auspico e spero che si realizzino queste cose perché si rimane la solita politica degli annunci che ormai in questi anni in Italia da oltre vent'anni siamo abituati a vedere. Senta, vuole convincermi che abbiamo in Irpinia una classe dirigente politica all'altezza del compito? Mi perdoni, non è una battuta, è una domanda, è una mia curiosità. Io ho un'opinione mia un po' diversa, probabilmente distorta, ma lei ritiene che abbiamo una classe dirigente politica che addirittura suggerisce a Renzi e al Governatore alcune cose da fare? Io non credo che la classe dirigente Irpinia sia inferiore alle altre classi dirigenti delle altre politiche, devo essere sincero. Parliamo di quella politica e non... Di quella politica credo che c'è la necessità che i nostri politici si diano un po' da fare di più. Onestamente, lo dico soprattutto ai consiglieri regionali, non mi pare che stiano facendo granché a partire dalla Presidente del Consiglio. Anche lei spesso viene trascinata dalla moda degli annunci e poco poi realizza e concretizza. Io credo che c'è la necessità di fare meno annunci e più cose pratiche. I nostri consiglieri sicuramente non sono degli sprovveduti, però devono dare dimostrazione di stare in Consiglio regionale per gli interessi dell'Irpinia, non per stare là perché si sono trovati di passaggio. Io credo che c'è questa necessità. Non sono fessi, scusatemi il termine, ma secondo me devono ancora dimostrare che si può fare di più e loro se vogliono possono. Poi se preparano gli interessi di partito, direttore, lei sa, di fronte agli interessi di partito, si ferma tutto in questo caso. 30 secondi. Segretario, ci dice una sola cosa, una intorno alla quale si può avviare questa unificazione non più ideale tra Irpini e Sannio, ma questa unificazione su un problema, su una cosa. Per cominciare, una cosa, un problema qualsiasi. Una cosa immediata che si può fare è la stazione Irpini in Valle Ufrica. Con l'altra stazione in Benevento, con l'altra stazione a Piano Dardine, quel triangolo di collegamenti infrastrutturali, piattaforma logistica, sono fondamentali per i due territori e non solo per i due territori. Lì è il vero banco di prova se Irpini e Sanniti riescono a ragionare veramente sulle questioni che li accomunano. Se noi riusciremo a realizzare la piattaforma logistica tenendo dentro il Sannio e la zona industriale di Piano Dardine, significa che abbiamo fallito. Questo è il banco di prova. Una chiosa a onor del vero, su questo problema delle piattaforme logistiche, era cominciata la guerriglia tra Irpini e Sannio, non delle persone di buon senso, ma tra qualche politicante di quarta fila. Bisogna riconoscere che Umberto del Basso De Gario, il sottosegretario, è stato il primo a dire ma perché acciuffarsi? Possiamo avere due piattaforme logistiche, una che fa una determinata cosa in un settore e l'altra nell'altro. Ecco, un motivo in più forse per dire alla classe dirigente politica Irpina, anziché essere presuntuosa, spocchiosa rispetto al Sannio, cerchiamo di essere un pochettino più umili, anche perché lo ricordiamo sempre e ci diamo così, segretario, che ringrazio per essere stato con noi, l'Irpinia fino a prova contraria. Era una delle tribù del Sannio. Grazie ancora a Mario Mercionne per essere stato con noi, grazie a voi e arrivederci alla prossima puntata di Politica e Politiche.